Con l'adozione e la diffusione sempre maggiore delle auto elettriche che nel 2030 probabilmente invaderanno il mondo non possiamo tenere in considerazione noi che siamo degli investitori il settore delle batterie nel video di oggi allora andiamo a vedere insieme questo settore che sarà uno dei settori più caldi dei prossimi anni vedremo come investirci con due etf subito dopo la sigla via settore delle batterie settore molto caldo molto interessante che sta andando molto bene di cui avevamo già parlato correggetemi se sbaglio smentitemi se sbaglio nel 2019 quindi stiamo parlando di più di un anno fa avevamo fatto dei video mi ricordo ancora sulla società ilica su bollore insomma ne avevamo parlato sul funzionamento delle batterie allo stato solido insomma abbiamo parlato diverse volte sia del settore delle auto elettriche sia anche del settore delle batterie cosa che poi alla fine per ora ci sta dando ragione allora adesso però voglio andare un po' più nel dettaglio e parlare di due etf che ci permettono di esporci nel settore delle batterie questo settore particolarmente di nicchia interessante che veramente ha delle prospettive molto molto importanti da qui al 2030 io me lo immagino come uno dei settori più caldi così come il settore delle auto elettriche poi vi dirò anche alla fine del video in quale di questi due etf io ho investito personalmente e perché ho scelto uno piuttosto che l'altro allora come procediamo in questo video andremo a vedere questi due etf vedremo le differenze tra questi due etf i titoli ve li dico subito però rimanete fino alla fine perché sono importanti le riflessioni finali le considerazioni finali in nome di questi etf è l'ultimo dei vostri dei vostri problemi metteremo i rendimenti a confronto e poi andremo a vedere soprattutto una cosa importante le aziende che stanno dentro questi due etf che sono particolarmente diverse nonostante siano due etf dello stesso settore le aziende sono molto diverse e quindi hanno poi dei rendimenti che sono diversi poi vi dico anche io quale ho scelto e perché di questi due etf se vi interessa questo tema particolare iscrivetevi al canale cliccando sul tasto iscriviti la campanellina vicino perché nelle prossime settimane farò uscire invece un altro video che va più specifico sul settore delle auto elettriche che è un altro settore particolarmente caldo di cui abbiamo parlato ma adesso andremo a vedere invece con degli etf specifici e poi se siete degli investitori alle prime armi buttate un occhio qui sotto in descrizione dove vi ho messo dei link con delle risorse utili che abbiamo fatto noi risorse gratuite che potete utilizzare per imparare i mercati finanziari in mondo degli investimenti sicuramente vi saranno di aiuto poi fateci sapere se vi sono piaciuti oppure no va bene va bene ragazzi allora andiamo nel vivo di questo video i due etf che andremo a mettere a confronto sono un lng e un wisdom 3 due etf appunto che lavorano nel settore delle batterie l'lng è il battery value chain mentre invece il wisdom 3 è il battery solution subito vediamo due cose innanzitutto sembrano essere accomunati dal settore delle batterie entrambi sono in dollari entrambi sono abbastanza grandi non giganteschi chiaramente un settore di nicchia ma il wisdom 3 a 148 milioni in gestione mentre invece l'lng ha 371 milioni in gestione il wisdom 3 però dall'altra parte è più giovane molto più giovane rispetto all'lng e questo può pesare magari nel giudizio finale di un investitore i codici dei due etf sono particolarmente rappresentativi la fantasia sicuramente non è mancata ai due emittenti l'etf lng ha il codice bat con due t mentre invece l'etf wisdom 3 ha il codice volt quindi bat è l'lng volt è il wisdom 3 per andare a cercare questi due etf andiamo a vedere però adesso il focus di investimento che hanno questi due etf perché non è lo stesso nonostante si parla di batterie attenzione che l'lng è focalizzato sul settore industriale delle batterie mentre invece il wisdom 3 è focalizzato sul settore informatico quindi su quelle società informatiche che lavorano nel settore delle batterie quindi abbiamo in realtà due settori diversi uno è industriale mentre invece l'altro è informatico e chiaramente dobbiamo tenerle in considerazione queste due cose per investire in questi due etf i due etf poi sono due etf a replica fisica totale il che vuol dire che comprano realmente tutte le azioni delle aziende che sono dentro l'indice quindi siete proprio voi stessi proprietari di quelle di quelle aziende ed hanno un costo che va dallo 0,49 per cento per l'lng allo 0,40 per cento per il wisdom 3 quindi il wisdom 3 più piccolino più recente ma costa meno dell'lng che invece è più grande è un po' più anziano entrambi gli etf poi sono ad accumulazione di dividendi quindi reinvestono dentro l'etf tutti i dividendi che vengono staccati andiamo adesso a vedere i rendimenti perché qui vengono fuori delle sorprese perché andiamo subito a vedere che i rendimenti del wisdom 3 sono decisamente migliori rispetto a quelli dell'lng ma tra poco andremo a vedere perché c'è questa bella differenza nel dettaglio possiamo vedere ad esempio che ad un mese l'lng ha guadagnato l'otto per cento mentre invece il wisdom 3 il 13 e 3 per cento a tre mesi c'è stata una differenza del 40 contro il 45 per cento a sei mesi del 59 per cento contro il 61 per cento insomma vediamo che in generale nonostante sia più giovane il wisdom 3 ha performato meglio rispetto all'lng soprattutto negli ultimi mesi nelle ultime settimane così però da questi numeri non si vede bene la differenza tra i due andiamo a vedere su un grafico mettiamoli a confronto e vediamo come l'lng che è quello nero abbia avuto una performance decisamente diversa rispetto al wisdom 3 che invece è la linea azzurra e soprattutto dopo il covid cioè dopo il crash dovuto al covid il wisdom 3 nonostante sia partito più in basso rispetto all'lng è riuscito a recuperare tutto e addirittura a sovra performare a battere l'lng quindi fino al momento pre covid l'lng ha fatto decisamente meglio rispetto al wisdom 3 dal covid in poi invece questo rapporto si è completamente ribaltato e adesso andremo a vedere perché c'è stata questa netta differenza tra i due che comunque è stata una bella differenza se vediamo la performance ad un anno possiamo vedere che l'lng è rimasto praticamente piatto mentre invece il wisdom 3 ha guadagnato più del 50 per cento cioè più 50 e 0 c'è una bella differenza in appena un anno immaginate due investitori che avevano questi due etf diversi uno stava a zero l'altro ha fatto più 50 eppure avevano investito nello stesso settore che cosa c'è di differente abbiamo detto uno è industriale l'altro è informatico ma quali aziende ci sono dentro? allora intanto partiamo dalle aree geografiche il wisdom 3 investe di più nel nord america investe di più in america e di meno in europa e questa è una bella differenza perché in questo settore specifico qui l'america è andata particolarmente meglio rispetto all'europa e poi soprattutto il mercato europeo ci piace di meno rispetto al mercato americano ok quindi anche qui si nota una differenza di area geografica poi c'è il mercato asiatico che il wisdom 3 ha pesato di più rispetto all'lng anche questo magari si è fatto sentire in questo confronto anche se poi la differenza importante è marcata viene fuori dalle azioni che sono dentro l'etf lng ha 31 aziende al suo interno il che lo rende un etf particolarmente poco diversificato 30 aziende sono poche certo è che il settore è di nicchia quante aziende volete che ci sono in questo settore qui poi industriali è chiaro che sono poche l'azienda che pesa di più per il 5,64% è Pilbara poi abbiamo Galaxy Resources abbiamo Renault abbiamo Tesla poi c'è anche Nissan, Livent insomma ce ne sono queste sono le aziende principali dentro questo etf che potete poi adesso con un bel esercizio andarle ad analizzare singolarmente per vedere quello che combinano come stanno andando a livello di fondamentali e anche come stanno andando i prezzi in borsa quindi fate un attimo uno screenshot e fermatevi qui sull'immagine screenshotatela e poi analizzatevi queste singole aziende se andiamo a prendere il wisdom 3 invece vediamo che al suo interno ci sono 95 aziende 95 quindi il triplo del dell'NG e poi vediamo che queste aziende a parte Mineral Resources che pesa per il 4% sono diverse non c'è Renault non c'è Tesla non c'è Nissan settore insomma molto industriale ma vengono fuori altre aziende particolarmente volatili che hanno fatto decisamente bene in quest'ultima parte dell'anno mi viene da pensare a una su tutte plug power che già solo nei giorni scorsi che non prende in considerazione tutto quello di cui abbiamo parlato perché gli screenshot li ho fatti in qualche un po' di giorni prima solo negli ultimi due giorni plug power ha fatto più del 40% quindi già questo 286% in realtà sarà diventata non lo so sarà arrivata al 3,5-4% di tutto il portafoglio comunque c'è anche SolarEdge, Nel, TDK, Umicor, insomma Gem, insomma ci sono tante aziende piccoline molto speculative già si vede in questo grafico qui tutte quante con un forte trend rialzista perché sono quelle che hanno beneficiato di più del trend degli ultimi mesi e quindi inevitabilmente l'ETF ne ha risentito positivamente confronto fatto amici belli andiamo a fare il nostro, le nostre considerazioni, riflessioni finali partiamo da da me quale etf hai scelto? secondo voi quale ho scelto? ho scelto non il wisdom tree ma ho scelto l'LNG acquistato pochi giorni fa rispetto a quando ho fatto il video perché ho scelto l'LNG rispetto al wisdom tree vediamo se ci arrivate magari mettete un attimo in pausa riflettete un secondo il motivo è proprio quello se ci siete arrivati perché le aziende speculative che stanno dentro il wisdom tree in realtà le tratto continuamente comunemente con le singole azioni quindi è facile che me le possa mettere in portafoglio se non prima dopo però sicuramente mi capitano tra le mani come singole azioni e quindi ho preferito l'LNG perché ha un altro tipo di aziende che normalmente non tratto Tesla di solito non la compro, Nissan non la compro piuttosto che Renault non mi capita di che di comprarle quindi è sempre il settore relativo alle batterie elettriche ma sono una tipologia di aziende diverse e poi soprattutto ho dato un peso un po' più importante alla dimensione e alla storicità dell'LTF e dell'LNG contanto che comunque se mi interessavano le aziende del wisdom tree avevo preso davvero il wisdom tree quindi è stata più che altro nel complesso della mia decisione ha pesato anche l'attività che faccio come investitore come trader in singole aziende, in singole azioni e quelle del wisdom tree praticamente sono la tipologia principale di aziende che vado a trattare e per questo non ho inserito il wisdom tree ma ho inserito l'LNG questo non vuol dire chiaramente che il wisdom tree è peggiore dell'LNG, assolutamente no non fatevi neanche però abbagliare dalle performance del wisdom tree perché è vero che adesso ha fatto particolarmente bene ma è anche vero che la volatilità è molto più alta delle aziende che sono all'interno del wisdom tree e quindi al primo scrollone di mercato che inevitabilmente ci sarà domani, tra una settimana, tra un mese, non lo so magari ci sarà prima ancora che io pubblico questo video quindi esce il video e già l'ha preso lo scrollone, io non lo so però quando ci sarà lo scrollone potete star quasi certi, poi di certo non c'è mai niente ma potete star quasi certi che il wisdom tree soffrirà molto di più dell'LNG per forza di cose perché la tipologia di aziende è quella quindi nella scelta non valutate soltanto le performance passate, anzi le performance passate non le dovete proprio valutare cercate di valutare la volatilità e il tipo di aziende che sono al loro interno e se vi interessa più il settore industriale o il settore informatico tra l'altro settore informatico che è un po' il settore tech che nell'ense world è quello un po' più rappresentativo quindi anche qui anche questo ha aiutato nella mia scelta perché mettere ancora altro settore informatico quando posso aggiungere magari un pelo di settore industriale quindi anche questo ha fatto nella mia scelta e queste sono considerazioni che potete fare anche voi quindi valutate nel vostro contesto specifico personale non prendete, ah buh adesso li prendo, li metto, ci compro tutto il portafoglio, vendo tutto e compro questi assolutamente no, 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 non si fanno queste cose e quindi mi raccomando se qualcuno mi dice ma li potrei prendere tutti e due ni nel senso che è possibile però a patto che non raddoppiate l'esposizione quindi non fate 5% 5% ma dite ok se nella mia testa, nella mia asset allocation c'è spazio per il settore delle batterie del 2% o 1% o 3% io non lo so però se c'è spazio per il 3% dite ok posso fare 1,5% o 1,5% quindi dare un determinato spazio al settore delle batterie e poi eventualmente dividerlo tra i due quindi non raddoppiare ma dividere questo eventualmente può essere fatto per suddividere anche l'investimento tra industriale e informatico nell'area delle batterie questo è possibile farlo però chiaramente ognuno di voi può valutare il caso specifico come settore, lo ripeto, secondo me è un settore interessante secondo me lascia sempre il tempo che trova le aspettative lasciano sempre il tempo che trovano poi è l'operatività che conta quindi mi raccomando io mi aspetto comunque un trend in crescita nei prossimi anni non solo 2021, 2022, 2023 e così via quindi accompagnerà molto anche lo sviluppo delle auto elettriche altro settore che secondo me sarà in forte crescita vi farò un video, uscirà nelle prossime settimane il video ho già preso tutti gli screenshot su gli etf che investono nelle auto elettriche quindi ne parleremo, avremo modo di parlarne però ecco sono due settori che andranno molto vicini saranno molto vicini tra di loro e quindi mi riaspetto in crescita nei prossimi anni chiaro che mi aspetto in crescita non vuol dire che ci investo mezzo portafoglio un quarto del portafoglio, ci investo sempre quella piccola percentuale per diversificare il portafoglio o al massimo sulle singole aziende poi lì ci opero in maniera più speculativa con la mia strategia di investimento in azioni che è una strategia growth e quindi si presta benissimo per le aziende che stanno dentro l'etf di Wisdom3 mi raccomando ragazzi sono etf di nicchia e quindi molto più rischiosi rispetto all'azionario globale che è decisamente più diversificato quindi niente scommesse, niente pack su questi strumenti che se sbagliate settore per qualsiasi motivo e vi sovrasponete a questi settori vi massacrate, vi rovinate e tutto quanto e questo non lo vuole assolutamente nessuno ragazzuoli siamo arrivati alla fine di questo video fatemi un po' sapere vi è piaciuto, non vi è piaciuto utile, non utile scrivetelo nei commenti cliccate sul tasto col pollicione all'insù buttate uno sguardo in descrizione per i link che vi abbiamo preparato con delle nostre risorse completamente gratuite per investitori principianti vi aiuteranno a fare parecchia chiarezza nel mondo degli investimenti fateci anche qui sapere se vi piacciono o no condividetelo con i vostri amici che potrebbero non sapere non conoscere questo settore e questi etf e poi per non perdervi il video sulle auto elettriche e tutti i prossimi video che usciranno nei prossimi nelle prossime settimane nei prossimi mesi iscrivetevi al canale attivate anche la campanellina così sarete sempre aggiornati e noi ragazzuoli dai ci vediamo alla prossima ciao ciao